Con la comunità di Santa Maria Assunta a Mezzanego Alto, Don Mauro Gandolfo assume di fatto la responsabilità amministrativa e pastorale di un'ampia porzione di territorio della Valle Sturla. Il 64enne sacerdote di origine sestrese, che è già parroco a Borgonovo, Mezzanego, San Silo Foce e amministratore parrocchiale a Vignolo, inizia il nuovo cammino all'insegna della collaborazione tra parrocchie. Già facciamo iniziative comuni, sia per quanto riguarda la catechesi, la liturgia, anche la carità, c'è anche un guardaroba di vallata, un bel segno di attenzione verso i poveri, certamente bisognerà incrementare queste iniziative. Un comune denominatore tra tutte le comunità è la devozione a Maria venerata sotto diversi titoli. Direi che la figura di Maria è un po' un tre d'unionne tra le varie parrocchie, quindi anche questo spero che ci aiuti a ritrovarci insieme per queste feste. Nella messa celebrata nella parrocchiale, Don Mauro ha chiesto l'aiuto da parte dei laici. Credo che sia indispensabile questo apporto dei laici, soprattutto in questo ambito tecnico, amministrativo, in cui forse non è giusto, direi, spendere tanto tempo come sacerdoti. Per noi è una bella figura, appunto conoscendolo sappiamo che possiamo contare e sappiamo quanto possa collaborare per portare avanti la nostra cura d'anime soprattutto. Aiuto che i parrocchiani assicurano nello spirito di collaborazione e affidandosi alla divina provvidenza. Lo sappiamo che su di lui potremo contare e ce l'avremo a fianco e potremo anche lui spuzzicare noi, noi spuzzicare un po' lui per fare delle code. Poi non lo so, nostro signore provvederà sicuramente, guarda.